Ciao a tutti, io sono Vittorio! E io sono Popcorn! Popcorn? Sì, anche dei Popcorn! Ma, ma, oh ragazzi, dei Popcorn invisibili! Che buoni che sono! Eh, oggi sono pianto! Voglio il latte! Vuoi il latte? Ah, c'è un problema, sai qual è questo problema? Il Grinch! Esatto! Il Grinch ha rubato anche tutta la pastina, Claudia! Ha rubato tutto l'altro, la pastina, i regali! Dobbiamo trovare il Grinch! Dov'è il Grinch, Claudia? Basta trovare la... Porta del Grinch! Dov'è la porta del Grinch? Facci vedere, guida turistica, Claudia, dov'è la porta del Grinch? Scegliere a sinistra o a destra? Destra! Questa è la destra e non c'è nulla! Quella è la sinistra e qua! Oh, mamma mia, vedete Vittorio Family? Aspetta! Ma prima era aperta prima di registrare il video? Però... La porta del Grinch è chiusa! Che cosa? Hai detto che la porta del Grinch era aperta prima? Sì! E ora è chiusa? Sì! Vuol dire che qualcuno c'è, sta là dentro! E sarà per forza il Grinch se è la porta del Grinch! Ah, dovevo trovare dei Grinch! Ma se andiamo vicino alla porta e facciamo toc toc toc, chi c'è qua dentro? Il Grinch si risponde! È vero! Andiamo a vedere! Andiamo a vedere! Io non posso bussare perché l'avevo in mano! Ah, ok! Allora busso io e tu entri! Che dici? No! Parti tu con il Grinch! Va bene! Sì! Ci so! Vi dici, signor Grinch, sono Claudia, sono una sua grande fan, vorrei un autografo, vorrei una foto... E lui invece che cosa farà? C'è soltanto un modo per scoprirlo, ovvero entrare nella porta! Tutto, 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 tutto! Ah! Claudia sei tu che hai fatto rumore, ti ho vista! Ti ho vista! Grinch! 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 Claudia, stai facendo un casino vicidiale! Secondo me quel Grinch si arrabbia se continui a urlare così! Non esce! Anzi, se ne rimane dentro! Oh! Vera! Hai visto il Grinch tu? Sì, l'ho visto! E' entrato dentro la porta! E' bruttissimo! E' puzza di cipolla! Beh! E come l'hai visto dell'altro di... Ah! Il Grinch! Puzza di cipolla, puzza di formaggio, puzza di salsiccia, puzza di tutto quanto quello che c'è di disgustoso e anche di spazzatura! E' anche di dentro il Grinch! Il dentifricio dura, è puro! E allora lo spazzolino! Lo spazzolino puzza! Andiamo a vedere se Grinch ci dice qualcosa! Grinch! Sei qui dentro? Silenzio! Silenzio! Claudia ci mette nei pasticci VittoFamily perché fa casino! Devi fare silenzio! Claudia! Se no il Grinch ci prende la cifetta così! Promettimelo! Promet... Ah! Brava! Andiamo a vedere! Oh no! Cos'hai visto Claudia? Il Grinch! Hai visto il Grinch! Che c'è tu? Non è vero! Mi hai preso in giro! Bena non ce la faccio più! Claudia sta urlando troppo! Ah! 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 Non c'è tu back non ti arutti La faccia tua Vittorio! Cosa? Ah! Un scherzetto! Ecco Verra si è spaventata! Adesso se ne va sotto il letto! Hai visto? l'hai spaventata! Aaaaah! Claudia, per fare andare il Grinch via di casa e trovare i regali e l'albero dobbiamo parlare con diplomazia! claudia tu sei pazza dei fuori di testa è colpa dei biscotti che hai mangiato stamattina che ti stanno facendo fare la scarica di zuccheri la prossima volta non esagerai con i biscotti no no non mi lanciare la palla brava lanciala al grinch vieni ok grinch grinch is stupid avviate un messaggio il grinch ha scritto si siete due pivelli scappate come delle saette io adoro le saette grazie guarda guarda il mio armadio dov'è il grinch ma non c'è nessun grinch nell'armadio dove lo vedi il grinch ci sono soltanto i miei panni puzzolenti cos'hai fatto no 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 claudia no no ha scritto oh no claudia ma stai facendo arrabbiare guarda cosa ha scritto ha detto basta ora devo riposare lo stai disturbando no no aspetta si vede quello dietro la porta guarda si vede qualcosa dietro la porta del grinch ti odio agia 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 non pioggia c'è il grinch dietro la porta forse dobbiamo trovare una chiave si la chiave per entrare nella porta del grinch dobbiamo trovarla nella spazzatura dice che è nella spazzatura e qua la spazzatura non c'è non c'è dobbiamo cercarla meglio forse dov'è che il grinch può mettere le cose nel naso se le mette nel naso il grinch delle cose e allora come facciamo ad aprire la porta ho bisogno di cibo per pensare devo un po' di molleggio anzi questo non è molleggio ma stai facendo le flessioni le flessioni da meditare esatto così posso fare la spaccata agia le mie povere gambe hanno sofferto per cosa per quello che hai fatto tu aspetta ecco io l'ho sofferto mamma mia come fa ad essere così bravo anni di danza il grinch era sa fare la spaccata cosa succede se lo voglio sfidare uh sfidiamo il grinch a fare la spaccata e anche a fare la ruota che ne dice vittorio sì il grinch che fa la ruota e si cade per terra guarda ha eliminato un messaggio ha scritto qualcosa ma poi lo ha eliminato vedi questo messaggio è stato eliminato cosa avrà scritto io me ne vado vittorio che c'è? io lo voglio sfidare lo vuoi sfidare? dillo grinch claudia ti vuole sfidare a fare la spaccata e anche vittorio no non è vero grinch non è vero io no sono claudia e anche la ruota anche la ruota devi fare oh sta scrivendo siete due babbei dai grinch sei un tifone che non vuoi uscire dalla porta bubburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburbur o come così cringe rompiscatole sarai tu che vieni qui a casa mia ha capito esci fuori da questa porta sta venendo sta venendo sta venendo dove ci mettiamo e claudia non mi lasciare da solo no io non c'entro tutto il letto ti faccio il soledico i piedi eh sì va bene non lo faccio ma stai comoda e allora esci chi ha preso il mio posto sotto il letto claudia esci subito dal mio posto speciale ma sta venendo il grinch cosa il grinch allora mi metto qua sopra se sotto non si va allora si va sopra ciao piedi di claudia